Partita da Catania il 2 ottobre, la carovana della non violenza promossa da Pax Christi Italia ha fatto tappa anche alla mezza termine presso il liceo Campanella. A parlare con gli studenti dell'Istituto Superiore Lamettino è stato Zion Kelly, protagonista della March for Our Life degli studenti americani, che ha riempito Washington e 800 città degli Stati Uniti lo scorso mese di marzo. Le Marce della Vita hanno espresso la reazione degli studenti americani e il loro grido in nome della non violenza dopo la strage di San Valentino in cui 17 studenti del liceo di Parkland in Florida sono stati uccisi con un fucile d'assalto dal 21enne Nicholas Cruz. Anche il fratello Zion Kelly è rimasto ucciso nella strage in Florida. Da allora insieme a tantissimi studenti americani si batte per sensibilizzare l'opinione pubblica americana contro il libero uso delle armi. Una delle domande che mi hanno colpito più delle altre è se ha paura di essere assassinato perché lui è uno dei leader di questo movimento contro la violenza portata dalle armi da fuoco e lui ha risposto no perché so che non sono da solo e che ci sono tante altre persone insieme a me che stanno portando avanti questa idea, questo progetto. che so che molti persone, ci sono molti leader e non sono solito e quello che stanno lavorando non finirà a me di essere assassinato. Secondo te il problema negli Stati Uniti qual è? È un problema delle lobby delle armi o un problema culturale dell'autodifesa che deriva nel corso degli anni proprio da come è nato un paese come gli Stati Uniti e quindi dal passato. Sì, indubbiamente entrambe, però il problema è la base culturale, quindi bisogna far cambiare l'idea perché il problema è che le armi in America sono molto accessibili, quindi bisogna combattere questa idea che ovviamente viene sospinta avanti dalle lobby, quindi è un circolo vizioso dalla parte della cultura e dall'altra delle lobby che fuocano questa cultura del possesso delle armi e dell'uso indiscriminato.